Vuoi scrivere il tuo primo romanzo o l'hai già scritto e non sai se continuare? Ma ti sei mai chiesto la ragione dei tuoi sforzi e se ne vale davvero la pena? Ciao a tutti, sono Giuseppe Chiodi, scrittore, blogger e coach narrativo. Benvenuti nel mio canale, questo è il primo video. Il canale si chiama Immersività, proprio come il mio blog, per chi non lo conoscesse. È un blog in cui parlo di scrittura, di lettura e appunto di cultura a 360 gradi, però sempre in ambito comunque narrativo, editoriale. Comunque entriamo subito nell'argomento, entriamo in media stress, come si dovrebbe fare nei buoni romanzi, senza preamboli, senza introduzioni o spiegoni. E appunto perché scrivere? Questo è l'argomento. Bevo un secondo perché mi si secca, mi si allappa subito la bocca. Diciamo che ho voluto fare questo video come primo video perché mi sembrava il più adatto. È un argomento un po' sottovalutato, ma che secondo me è molto importante per chi si vuole approcciare alla scrittura per la prima volta, anche per chi magari ha già scritto un romanzo, però appunto non sa se vuole continuare, non sa cosa aspettarsi. Quindi voglio parlare un po' sia delle motivazioni che spingono a scrivere o a continuare a scrivere, sia delle aspettative che comunque sono importantissime. Prima di tutto appunto volevo dire un po' tutti gli scrittori prima o poi nella loro vita cominciano a parlare del perché si sono messi a scrivere oppure del perché scrivono. E l'hanno fatto appunto scrittori famosi come Roth, Calvino, Orwell, che mi pare che addirittura ha fatto dei punti programmatici sull'argomento. È normale perché comunque chi scrive, soprattutto se ha scritto per tutta la vita, prima o poi vuole dare un contributo in questo senso, spiegare un po', o magari spiegarsi perché lo sta facendo, perché ama farlo, perché vuole continuare a farlo, perché si è stancato di farlo. E poi tantissime persone diciamo intraprendono questo mestiere perché fondamentalmente si tratta di un mestiere, anche se non è remunerato, almeno in Italia. È un mestiere perché appunto vedremo quanto impegno ci vuole, però appunto molte persone intraprendono questo mestiere senza sapere cosa aspettarsi davvero e soprattutto senza neanche avere le giuste spinte motivazionali. Diciamo che a volte chi bazzica l'ambiente editoriale si sente anche un po' scoraggiato perché spesso si dice, ci si lamenta, gli addetti a lavori si lamentano, ma anche gli scrittori appunto si lamentano del fatto ci siano troppi scrittori e pochi lettori. Diciamo che in Italia questo è un po' un chiodo fisso, appunto i scrittori, gli addetti a lavori nell'editoria eccetera, si lamentano di questo problema da sempre, praticamente, perfino Leopardi se ne lamentava e diceva espressamente questa frase che poi è esplosa, nel senso che l'avrete sentita sicuramente, ovvero ci sono più scrittori che lettori in Italia. è una cosa che si dice sempre, chiaramente è un iperbole perché è impossibile che ci siano più scrittori che lettori, però è un iperbole che rende l'idea, cioè vengono pubblicati tantissimi libri, alla fine della fiera una grossa fetta di questi libri non viene venduta o viene venduta pochissimo, quindi è uno spreco fondamentalmente di carta, uno spreco di risorse, di energie, e alla fine appunto un italiano, non dico un italiano su due, però diciamo una buona parte degli italiani legge al massimo uno o due libri l'anno, che è una cosa terrificante perché non vuol dire appunto leggere libri, vuol dire che capita di leggere quel singolo volume magari per qualche ragione di lavoro, di studio e poi basta, c'è una cultura della lettura eccetera, e quindi questo è un chiodo fisso, ci si lamenta sempre di questo, e chiaramente i nuovi scrittori magari possono sentirsi un po', come dire, un po' anche aggrediti in questo senso, perché è come se pensassero di dover confrontarsi con una realtà troppo competitiva, ed è così poi, diciamo nella realtà effettiva è così, è una realtà super competitiva quella editoriale, quella libraria, e effettivamente è difficilissimo riuscire a emergere, soprattutto per uno scrittore neofita, insomma, che magari ha pubblicato il suo primo libro, ma di questo parleremo dopo. Adesso concentriamoci sul perché, come dicevo prima, pubblicare questo primo libro, e diciamo che molte persone, e questo è uno dei motivi per cui alla fine ci sono tantissimi libri rispetto a magari le persone che li leggono appunto, tantissimi, prima o poi nella loro vita scrivono un libro. Adesso questo libro può essere appunto pubblicato, e noi stiamo prendendo in considerazione ovviamente i libri pubblicati, oppure può rimanere nel famoso cassetto, infatti viene chiamato il libro nel cassetto. Diciamo che proporzionalmente più passa il tempo, più è probabile che una persona scriva un libro, questo è abbastanza ovvio, soprattutto con l'avanzare dell'età, insomma, molte persone anziane o comunque di mezza età, diciamo, ho notato nella mia esperienza che sentono questo bisogno, infatti le case editrici sono piene di persone anziane che vengono magari a portare i manoscritti, eccetera, sentono questo bisogno di esternare magari il proprio vissuto. Infatti molto spesso il primo libro o è strettamente un'autobiografia, oppure è comunque un romanzo non autobiografico ma con tinte autobiografiche magari, o comunque una sorta di sfogo personale in forma chiaramente narrativa, stiamo comunque parlando di narrativa adesso, o magari un diario, insomma, può essere qualsiasi cosa, ma c'è comunque una forte componente di vissuto. E chiaramente una persona anziana sente ancora di più questo bisogno, anche magari l'idea di lasciare qualcosa in più per i posteri, eccetera, eccetera, oppure appunto finalmente confessarsi per tutta la vita che si è vissuta, eccetera. È il famoso primo libro, spesso e volentieri diventa, come ho detto, il libro nel cassetto che può rimanere nel cassetto o uscire dal cassetto, e questo non, diciamo, non possiamo sapere quanto ci vorrà, nel senso ci sono persone che magari tengono quel libro nel cassetto per vent'anni, ci sono persone che magari dopo un paio d'anni riescono a farlo uscire dal famoso cassetto o perché lo autopubblicano, o perché trovano un editore comunque interessato, oppure, più classicamente e orribilmente aggiungerei, cedono alla vanità di avere appunto un libro pubblicato da qualcuno e pagano per la pubblicazione. Cosa che fanno in tanti, soprattutto se non sono molto informati sull'ambiente editoriale in generale e sul processo di pubblicazione. Quindi invece magari di affidarsi a una casa editrice piccolina, ma che magari sa lavorare, che legge davvero il loro manoscritto, che prova a pubblicizzarlo, a promuoverlo, si affidano pagando una cospicua somma a questi editori a pagamento. E questi appunto sono argomenti compressi che affronteremo in altri video più specifici. In questo mi premeva di più appunto parlare proprio di questo primo libro. Alla fine molto di questo video verterà sul famoso primo libro, perché il primo libro è un po' quello che dà poi il là per quello che succederà dopo, che può essere appunto un percorso, un percorso di scrittura per diventare dei veri autori, oppure semplicemente una disperazione a cui purtroppo, diciamo, che purtroppo stende tanti tanti scrittori e impedisce loro di continuare questo percorso, perché molti magari per la delusione subita non si rifiutano di continuare a scrivere, oppure semplicemente non hanno proprio l'interesse di scrivere altri libri, no? Soprattutto se il primo libro è considerato così importante. E qui, qui è un punto fondamentale di cui vorrei parlare nel video, perché il primo libro, io uso questo termine, il libro della vita, viene considerato il libro della vita da molti. Secondo me è sbagliatissimo, perché da un lato è normale pensare al primo libro in questi termini, perché comunque è il libro che magari abbiamo nel cuore, o comunque appunto nel famoso cassetto da tanto tempo, che abbiamo avuto tanto tempo per scrivere, a differenza magari di un seguito, eccetera, eccetera, e che ci rappresenta forse di più, nel senso proprio per questi attributi autobiografici che volenti o nolenti andremo a mettere in questo primo libro, questo primo libro ci sembra ancora più nostro di quello che magari potremmo scrivere in seguito, cosa non vera, ma è quello che può sembrare all'inizio a chi scrive appunto questo primo libro. E quindi viene considerato così, in questo modo, come se fosse quasi un'estensione di noi stessi. Per questo, quando poi questo famoso libro della vita, quando questo primo libro viene magari rifiutato da case editrici, oppure viene demolito da degli editori, da dei recensori, o perfino dagli amici, magari a qualche amico non piace e questo ci fa stare male, è normale, perché noi lo vediamo in questo modo, lo vediamo come un'estensione di noi stessi, anche se non è così. Perché ci abbiamo messo noi stessi dentro? Perché ha tutti questi tratti autobiografici? Perché magari l'abbiamo covato per anni e anni? E questa è una visione sbagliata, perché il primo libro non potrà mai essere un grande libro. Paradossalmente il primo libro, con tutta probabilità, diamo una grossa probabilità, sarà il peggiore tra quelli che possiamo scrivere. Perché? Perché è il primo libro, questo mi sembra ovvio, molti no, non sembra, perché la scrittura è sempre vista come una cosa a sé, come se fosse qualcosa di alieno rispetto al resto dei mestieri del mondo, perché sì, è un mestiere, quindi se tu ti metti a fare un mestiere, la prima volta che ti metti a fare il fabbro non otterrai un ottimo risultato da quello che stai facendo, oppure la prima volta che ti metti a suonare uno strumento, non riuscirai, oppure la prima volta che compongi una canzone, ma non credo proprio che quella canzone sarà un capolavoro. Non so perché, ma la scrittura prevede, nella mente di molte persone, che non ci debba essere un iter, un percorso, ma che ci debba essere un prodotto finito immediatamente, dal nulla, ex nilo, così. Non riesco a spiegarmi questa cosa, però purtroppo molte persone pensano questo, quindi magari si dedicano a questo libro trascinandoselo negli anni, senza seriamente cercare di lavorarlo, ma trascinandoselo negli anni come se fosse appunto un'emanazione di sé, che magari non arriva neanche a compilimento. Tante persone iniziano a scrivere questo famoso primo libro e poi non lo finiscono mai, perché non è un vero libro, non è una storia. Una storia, come dice Aristotele, ha un principio svolgimento e fine, inizio, mezzo e fine, no? Questi libri è come se fossero eterni, perché, come ho detto prima, quello della storia è un espediente, è soltanto un mezzo per raccontare di sé stessi. E quindi, diciamo che per molti versi queste persone non dovrebbero nemmeno pubblicare il famoso libro nel cassetto. Molte volte è meglio lasciarlo nel cassetto, proprio perché le intenzioni anche con le quali si è scritto questo libro sono sbagliate per quello che poi dovrebbe rappresentare nel momento in cui viene pubblicato, ovvero un'opera, una storia, qualcosa che possa piacere ad altri, non solo a se stessi, no? Quindi qualcosa che si spera strutturato, di emozionante, coinvolgente, di comprensibile, di fruibile, no? Qualcosa che noi estraiamo da noi stessi, e questo è sacrosanto, però che poi mettiamo in un terreno comune in modo tale che altri possano fruirne e anche capire poi noi stessi e quello che pensiamo attraverso il libro. Spesso e volentieri, come dicevo, il primo libro è solo un vomito in cui non si cerca solo appunto di buttare fuori quello che si ha dentro e basta. Il risultato poi è questo, che il libro della vita viene o demolito o rimane nel cassetto, comunque magari viene pubblicato dall'editore a pagamento, ma rimane là, nessuno lo leggerà, non avrete un pubblico, perché così funzionano gli editori a pagamento. Ed è anche sbagliato pensare che una volta che il libro è stato pubblicato, come ho detto prima, il problema è risolto. Non è così per niente, perché, diciamo, scrivere il primo libro è solo uno step di un percorso, perché diventare scrittori, diventare autori veri, vuol dire fare un percorso irto di ostacoli, di difficoltà, da superare piano piano, imparando, crescendo, a ogni romanzo che si scrive, studiando, come in tutti gli altri campi dello scibile, anche se appunto la scrittura purtroppo non viene considerata come tale. E appunto questo percorso di scrittura è quello di cui voglio parlare, soprattutto, diciamo, in questo video, per quanto riguarda le motivazioni e le aspettative, perché appunto queste aspettative possono essere falsate, come anche le motivazioni. Scrivere un libro per motivazioni banali non funziona, per il semplice fatto che non basta scrivere un libro, come ho detto io, ma bisogna poi seguire questo sforzo con molti altri sforzi, ovvero procedere per questo famoso sentiero, per questo iter di scrittura. Quindi, molte persone magari scrivono un libro per questione di vanità. Adesso, questione di vanità è generico, perché può essere vanità, diciamo, scrivere un libro per fini monetari, quindi pensare io diventerò un grande scrittore perché voglio avere tanti soldi, aspettativa assolutamente sbagliata, perché a dir poco surreale. Oppure, io voglio scrivere un libro perché voglio diventare famoso, ricco e famoso, la classica accoppiata. Quindi di prestigio, di autorealizzazione, in questo senso. Anche questo, un errore, perché non basta a sostenere uno sforzo prolungato, non sapendo poi se effettivamente questo prestigio e questa fama arriveranno, e con tutta probabilità non arriveranno affatto. E poi si crollerà appunto la prima difficoltà quando si vedrà che questa fama è molto lontana, è molto remota, è molto improbabile. Oppure ci può essere una ragione di vanità ancora più, diciamo, anzi, ancora meno banale, come dire, magari pensare di poter trasmettere un messaggio. Anche questa è vanità, pensare di poter cambiare le persone, farle riflettere, farle, appunto, farle pensare, ma anche magari far passare certi messaggi di natura sociale, promuovere messaggi positivi. Quindi questo può sembrare qualcosa di altruistico, ma anche queste cose altruistiche in realtà sono una forma di vanità, perché chiaramente, inizianamente parlando, noi, diciamo, ci sentiamo meglio con noi stessi pensando di poter rendere altre persone felici, oppure di poterle influenzare addirittura. In questo c'è anche una forma di dominio, di controllo, no? Comunque tutto è riconducibile alla vanità. E non c'è niente di male in questo, assolutamente no. però non basta, perché l'ambizione iniziale poi non sostiene lo sforzo, magari riesce a sostenere lo sforzo per un progetto, cioè il primo progetto, il primo libro, il libro della vita, quello che è, che da solo non serve a niente. Quindi se poi dobbiamo continuare il percorso e quindi dobbiamo sostenere tanti altri progetti, come facciamo a sostenere questi progetti quando è così, quando la nostra ambizione è così remota rispetto allo sforzo attuale, prolungato, e doloroso, eccetera, perché scrivere è faticoso, scrivere bene è faticoso, non vuol dire semplicemente mettersi davanti alla scrivania e stendere tutto quello che ci viene in mente, vuol dire appunto sanguinare, no, davanti alla macchina da scrivere, parafrasando, forse, seminguere non ricordo, comunque vuol dire tirare fuori una storia da noi stessi e darle una forma e quindi una struttura, quindi ragionare su questa struttura con tutta una parte pre-scrittura, poi la parte scrittevole che comunque è molto stancante, non è semplice per niente perché bisogna trattare per bene i personaggi, le scene, i dialoghi, eccetera, eccetera, poi dopo c'è tutta la parte post-scrittura, soprattutto per chi magari si deve autopubblicare, quindi deve badare molto alla formattazione, alla copertina, eccetera, ma anche per chi non lo deve fare, dopo la prima bozza ci sarà una riscrittura, una seconda bozza e forse anche una terza, una correzione di bozze, bla 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 bla, insomma, per fare un romanzo paradossalmente ci si mette tanto tempo, anche molto più di progetti più blasonati o che possono sembrare più difficili, alla fine se sei molto, molto veloce, se sei efficiente, se hai un metodo che funziona, eccetera, eccetera, e hai molto tempo libero, magari riesci in sei mesi a scrivere un romanzo, se invece sei una persona normale ci puoi mettere un anno, oppure ci puoi mettere ancora di più, ci puoi mettere due anni, ci puoi mettere tre anni, ce ne puoi mettere cinque, non è semplice, come fai a sostenere uno sforzo del genere? Quindi, oltre alla motivazione iniziale che ti spinge appunto a iniziare, ci deve essere qualcosa che ti mantiene su questo percorso e questa cosa deve essere un piacere, cioè, devi provare piacere, piacere è dolore da un certo punto di vista, come quando uno fa uno sport a livello agonistico, da un lato le sessioni di allenamento sono estenuanti, quindi ti fanno veramente, non dico che ti fanno male, ma ti fanno soffrire, però è una sofferenza che tu accogli con benevolenza, perché è qualcosa che ti piace fare, no? E così deve essere la scrittura, secondo me, per riuscire a sostenere lo sforzo ed entrare in questo processo, in questo iter, in questo percorso, e magari quindi pubblicare il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, trovare un pubblico, una fetta di pubblico, una nicchia di pubblico, non deve essere un grande pubblico, anche un piccolo pubblico, poche persone che ti seguono e che amano quello che scrivi, trovare uno stile, trovare magari una realtà che ti promuove, che ti pubblica, eccetera, eccetera, no? E anche qui ci possono essere diverse spinte, Salgari diceva che scrivere è come viaggiare senza la seccatura dei bagagli, se non ricordo male, vado a memoria, e aveva ragione, ovviamente, nel suo caso, Salgari non era andato veramente in tutti i luoghi, non aveva visitato tutti i luoghi che descrivevano i suoi romanzi, andava in biblioteca, studiava sulle enciclopedie e scriveva sugli atlanti, eccetera, e questo per lui è stato come viaggiare, in un certo senso, ha provato una sensazione come se stesse effettivamente viaggiando, e in questo senso per lui scrivere era come viaggiare, c'è la famosa citazione di Eco che dice chi a 70 anni non avrà letto, non avrà mai letto, avrà vissuto una vita sola, chi invece avrà letto tanto, avrà vissuto 5.000 anni di storia, una cosa del genere, no? Sempre vado a memoria, quindi non posso essere certo delle citazioni, però è una citazione molto famosa, quindi la conoscete di sicuro, è una citazione con cui non sono tanto d'accordo perché Eco parla di lettura, secondo me sì, invece, bisognerebbe parlare di storie perché non si vivono altre storie e quindi non ci si medesima in altre persone e si fa esperienza di quegli eventi nelle vesti di quelle altre persone solo leggendone, ma anche semplicemente guardando un film in cui c'è una storia, giocando a un videogioco in cui c'è una storia, magari c'è uno storytelling anche molto curato, ce ne sono di videogiochi così come i giochi di ruolo, appunto ci sono film in cui ti sembra di essere nel film, ti sembra di star provando quello che stanno provando i personaggi, magari lo vedi pure, quindi questo magari ti aiuta anche a sentirlo ancora di più sulla tua pelle, queste sensazioni, oppure può essere una storia raccontata da qualcuno, può benissimo essere un amico che ti racconta un episodio della sua vita, tu ti metti nei suoi panni in quel momento e senti la storia che lui ti sta raccontando oralmente come se tu la stessi provando, quindi non è la lettura sono le storie e scrivere è ancora, diciamo, è in questo alveo assolutamente perché stai facendo esperienza di una storia ma la stai costruendo tu, quindi ancora di più la senti e questo è quello che penso io per esempio nella mia dimensione personale scrivere in questo senso è come vivere, cioè mi permette di vivere delle esperienze che non potrei vivere altrimenti, mi fa esplorare dei posti sia quando li studio prima di scriverne sia mentre ne scrivo e li descrivo perché li vedo su Google Maps, li vedo su YouTube, li vedo nelle immagini, scavo in quei posti come se li stessi visitando realmente, non è proprio la stessa cosa, è chiaro, è una simulazione della realtà, però l'effetto che fa è questo e quindi mi fa stare bene un po' anche magari cose più non solo per quanto riguarda i viaggi o le esplorazioni o i posti ma anche per quanto riguarda i personaggi, entrare nelle vesti di altre persone, sondare la loro mente in modo psicoanalitico, riportarle in forma introspettiva in un romanzo, tutto questo ci mette appunto come ho detto nei panni di altre persone e ci fa fare esperienze di altre persone anche se in realtà sono simulazioni di altre persone oppure scene di violenza, scene di sesso, qualsiasi cosa, tu provi comunque una forma di esperienza in quello che stai scrivendo e questo secondo me può essere un'ottima motivazione soprattutto per chi magari è timido o è riservato come lo sono io oppure ha una vita interiore maggiore di quella esteriore insomma può veramente provare quel piacere di quando magari era bambino e leggeva quelle storie e sognava poi di diventare un legionario romano un pirata un astronauta e poi ovviamente da grande si è ritrovato a essere un borghese mediocre qualunque come tutti gli altri e quelle aspettative sono state deluse però tu puoi continuare a sognare in un certo senso attraverso questa simulazione delle storie lo puoi fare con i videogiochi lo puoi fare con i libri lo puoi fare scrivendoli questo è quello che provo io quindi questa è diciamo la motivazione che mi spinge che spinge me a scrivere giorno per giorno oltre poi alla volontà di voler diciamo far riflettere le persone nel mio caso in certi modi eccetera eccetera ma può essere qualsiasi cosa magari far rifugiare le persone soprattutto in un momento delicato come questo farle rifugiare in un mondo più confortevole in un mondo fantastico magari che può fungere appunto come come consolazione come rifugio tante cose uno può pensare che possono spingerlo a fare però poi tra il dire il fare c'è di mezzo il mare dire che possiamo anche chiuderla qui penso che abbiamo parlato abbastanza di motivazioni e aspettative come vi ho detto questo era il primo video quindi scusatemi se ho fatto un po' di ho cercato di tagliare il meno possibile ho tagliato un po' sicuramente anche per unire due pezzi di video insomma ho fatto un po' un casino però come vedete cerco di non ho uno script cerco semplicemente di dire quello che mi viene su un dato argomento e per fare una cosa meno artefatta possibile cioè voglio che sia genuina e che le persone possano comunque imparare da quello che dico anche se magari senza quel ritmo forse nato di video super editati o cose del genere e anzi così avete ancora più tempo magari di prendere appunti cosa che consiglio di fare quando si guardano i miei video tenere magari un foglio per gli appunti vicino con una penna e niente quindi al prossimo video ricordatevi di iscrivervi ricordatevi di dare un'occhiata al mio blog il mio servizio di coaching narrativo per chi non lo sapesse e avesse bisogno di aiuto per scrivere il suo primo romanzo o continuare a scrivere come dicevo e insomma alla prossima ciao